Io sono Lella Costa e sono contenta di aderire a questa campagna, ho spesso pensato forse con un filo di riverenza che ci sia qualcosa di insensato nel criterio con cui si fanno i gemellaggi perché appunto ti trovi sperduti i paesini dell'Italia e scopri che sono gemellati con altri tanti sperduti e sconosciuti i luoghi del pianeta, però se invece vogliamo dare un senso, cioè se il gemellaggio tra città vuol dire che si creano dei legami, che si creano delle condivisioni, che si creano dei progetti comuni, allora questa mi sembra un'occasione importante, togliere un gemellaggio a una città e a un paese in generale che in questo momento si sta muovendo con arroganza contro alcuni diritti che riteniamo fondamentali, diritti delle persone, diritti che hanno a fare con la dignità, con l'individualità, con le scelte profonde e quindi mi piacerebbe che Milano facesse questo gesto. Grazie a tutti.